L'iniziativa Cinema 2 Day consente di andare al cinema pagando un biglietto di soli 2 euro, il secondo mercoledì del mese, una sperimentazione ideata dal MIBACT che durerà fino al mese di febbraio 2017 incluso e che ha raccolto l'entusiasmo di tantissime persone. Cinema 2 Day è un'iniziativa per avvicinare le persone alla magia della sala, spiega Dario Franceschini, ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'obiettivo del Cinema Day è quello di promuovere la cultura e l'arte cinematografica, incrementando il pubblico nelle sale e scuotendo in particolare chi è poco amante del genere. Un evento che riunisce e mette d'accordo tutte le categorie che ruotano nel mondo cinematografico. I cinema aderenti delle principali città della Campania sono America, Filangeri, La Perla, Metropolitan, Plaza, Vittoria, Arcobaleno, Acacia, Modernissimo, Despesa, Napoli, Teatro delle Arti, San Demetrio, Apollo, Despesa, Salerno, San Marco, Duel e La Caserta, Gavelli, Maxi Cinema a Benevento, Partenio ad Avellino, Eppi Maxi Cinema ad Afragola, Stabia Hall, Montil, Super Cinema a Castellammare di Stabia, Big Maxi Cinema, Ucicinemas, Cinepolis a Marcenise, Multisala, Savoia, Nola, Il Sofia, Pozzuoli, Politema a Torre Annunziata e Lodeon a Scafati.